questi che ne sanno di fila inquestura delle mille facce della mia cultura e la melanina ciò che li cattura io non ho dei dubbi sulla mia natura quando io rappo è in italiano e anche se parto resto in italiano la prima volta che ho detto ti amo ti giuro l'ho fatto in italiano 883 vado go gang i cartoni su sei con cristina da vena la scena rap che era giù con me quando tutta sta gente non mi conosceva con colori razzisti quelli della lega ogni 2 giugno su quella bandiera mando una foto i parenti nigeria mangiando una fetta di pizza percina sono afro italiano queste parole vengono dalla seconda strofa della mia canzone afro italiano in questa canzone ho provato a raccontare una storia una delettante storie legata ai ragazzi afrodiscendenti che ci sono qua in questo paese qua la scrittrice nigeriana cima manda cosia parla del problema legato alla singola storia no perché ammettiamolo in questo paese qua spesso si parla di noi ragazzi di seconda generazione però c'è problema della singola storia nel senso che tutte le tutto l'universo delle esperienze che possono condividere delle persone facente parte a una comunità sono legate a un semplice cliché la mia storia è quella di un ragazzo di provincia vengo da un paesino ricordo che indora intorno ai 15 anni ho scoperto il rap italiano con il mio amico mario e ascoltavamo il rap italiano e sono figlio di florence di samuel due ragazzi ventenni che sono venuti in italia due ragazzi che sono venuti in italia da ventenni hanno hanno deciso di crescere la propria famiglia in questo paese hanno lavorato nelle aziende nelle fabbriche del bresciano e poi hanno aperto la propria attività ci sono miei amici afro italiani come me appassionati di letteratura di dante boccaccio che hanno frequentato il liceo c'è chi come me che non sa scegliere se preferisce mangiare il zoloff rice uno dei piatti tipici nigeriani oppure le lasagne questo fa parte anche questo di una storia no ho la mia amica zara can che un attivista scrivi che è un attivista scrittrice che è cresciuta vicino a napoli che è cresciuta in campagna e quando parla si esprime con un accento campano che io trovo fantastico ed è una ragazza afrodiscendente c'è momo che vive dalle parti di padova e parla con le remoscia e ha creato una rubrica intitolata se non sai chiedi dove racconta alle persone la propria storia ed è riuscito a trasformare la propria passione per la musica afro beats in un lavoro che condivide con migliaia di persone vedete tutte queste qua sono storie diverse però se ci pensiamo quando uno pensa stranieri in italia la prima immagine che gli viene in mente è quella di una bella barca piena di di stranieri che stanno venendo in questo in questo paese qua e facciamo un mito voi non ci crederete ma per quanto si parli spesso degli sbarchi così dicono che statisticamente meno di un per cento degli stranieri che vengono qua in italia vengono qua con gli sbarchi al di là delle statistiche nella media dei casi tutti i miei amici con il quale sono crescute nel mio quartiere abbiamo storie di noi dei nostri genitori che sono venuti qua hanno preso il visto da un paese dell'africa e si sono trasferiti qua non c'è nulla di male nel essere venuti qua in italia con un barcone mio zio è venuto per ben due volte in italia con un barcone se è fatta due volte la tratta e cosa posso dire però ci sono le storie dei ragazzi del mio quartiere per esempio io vengo da un quartiere che si chiama i cinque continenti in questo quartiere eravamo quasi tutti al 99 per cento figli di stranieri i miei compagni e i miei amici del quartiere poi sono cresciuti c'è chi è diventato avvocato che è diventato dottore che è giocato a calcio che ha aperto un'azienda che ha aperto un'azienda un'attività no tante tante storie diverse però ammettiamolo cioè i media hanno un potere incredibile perché nei miei 32 anni di vita in italia nella media dei casi ogni volta che ho acceso la televisione ho sentito sempre urlare questi termini qua tipo emergenza immigrazione sbarchi extra comunitario questi termini qua hanno il loro potere sono potenti entrano nella mente delle persone faccio un esempio persino io cioè anche io posso essere vittima di questa cosa qua io mi ricordo che quando ero giovane quando ero piccolo quando ero piccolo se una persona mi diceva io sono albanese mi prendevo male mi spaventavo dicevo hey be careful quando io avevo il timore delle persone provenienti dall'albania non conoscevo una singola persona albanese nessuna albanese faceva parte della mia vita però avevo sentito parlare di questo popolo per sentito dire avevo visto un sacco di articoli di giornale avevo avevo visto un sacco di servizi alla televisione e avevo sentito i miei amici bresciani dire certe cose su di loro e quindi sono rimasto influenzato da questo pregiudizio qua che ho superato conoscendo delle persone albanese e pensate alla potenza dei media no i media hanno hanno un potere possono influenzare la tua percezione di te stesso io mi ricordo che quando andavo a scuola quando una persona diceva biondo con gli occhi azzurri era sinonimo di fighezza era bellissimo cioè io mi ricordo che persino io ho avuto la fase della vita in cui sognavo di avere una bella donna bionda con gli occhi azzurri però perché sognavo di avere una bella donna bionda con gli occhi azzurri perché nella media dei casi quando guardavo un film guardavo la televisione il protagonista la persona più importante del film era bella bionda con gli occhi azzurri non a caso se ci pensate gran parte delle rappresentazioni di Cristo nel cristianesimo raffigurano biondo con gli occhi azzurri perché quello è la bellezza il modello di bellezza al quale ambire e però se ci pensate questa è una cosa dovuto a quello che si è detto alle storie che si è raccontato e i media attraverso la rappresentazione possono anche aiutare vi faccio un esempio sono certo che tutti voi avete quell'amico razzista che è razzista però michael jordan è un grande razzista però michael jackson l'hai visto come balla oppure razzista ma i film di will smith sono i migliori perché i film di will smith sono i migliori perché michael jackson lo ammira più di quanto ammira me o altri ragazzi nati o cresciuti qua perché di queste persone qua ha una storia conosce qualcosa ha letto articoli di giornale che vanno al di là di al di là di informazioni negative e invece si può dire che per quanto riguarda noi afrodiscendenti in questo paese ce la giochiamo da una parte c'è tutto l'universo dei cliché spaccio droga sbarchi e poi abbiamo ballottelli no faccio l'esempio ballottelli perché mi sento preso mi sento toccato personalmente io mi ricordo intorno al 2012 quando ballottelli ha fatto quei due gol alla germania nel 2012 quanto era bello essere nero a bresa ricordo che io tutti i miei amici del quartiere andavamo in giro con questa cresta qua e quando eravamo in giro i vecchi bresciani ci salutavano e dicevano e noi dicevamo sì era bello perché lui stava dando una rappresentazione positiva poi cos'è successo è passato del tempo e magari ballottelli ha smesso di fare gol e quindi a quel punto per quei vecchi bresciani siamo tornati ad essere che negarli che negarli no ormai siamo nel 2021 e anche in questo paese ci sono tanti altri esempi di ragazzi afrodiscendenti che fanno cose interessanti ammirevoli al di là di ballottelli però purtroppo forse si può dire che i media siano un po troppo pigri per scoprirli no per esempio ho la mia amica reina angela e evelyn che sono delle ragazze che aiutano le persone con i capelli rizzi a prendersi cura dei propri capelli e ad ammirare i propri capelli nella loro naturalezza sono amico di nazla di daniel madame e di ayomide che sono delle atlete che sono delle atlete pluripremiate che attraverso la propria piattaforma cercano di parlare di comunicare di raccontare anche loro le loro le proprie storie per esempio daniel madame parla spesso di come è importante cambiare la legge di cittadinanza come importante che le persone come me nate cresciute in questo paese non debbano soffrire non debbano aspettare i venti e passa anni per poter sentirsi cittadini no e sapete avete presente tik tok no sempre parlando di storia in questo momento il tik tok er italiano più conosciuto in assoluto si chiama cabi lo conoscono in tutto il mondo dal brasile all'america all'africa ed è un ragazzo che abita in piemonte ha superato pure zan luca bacchi con i tik tok no e devo ammettere che io sono dell 89 anch'io mi sento un po vecchio in questo universo qua anch'io sto scoprendo nuovissime in realtà grazie a questa tecnologia qua per esempio un'altra tik tok er conosciutissima è aida una ragazza che porta il velo abita dalle parti di romano vicino a brescia e guardando i suoi tik tok anch'io ho scoperto una nuova realtà un nuovo mondo che non conoscevo e poi c'è per esempio isabo che è un po comico però sapete che per essere comici bisogna essere proprio attenti e essere in grado di fare una attenta critica sociale quindi sabato attraverso il suo canale tik tok riesce a comunicare e insegnare alle persone quello che succede nelle case di noi afro italiani un po l'invidio questi ragazzi della generazione tik tok perché quando io andavo a scuola purtroppo devo confessarvi che tutti i miei compagni di classe al 99 per cento non potevano avere non potevano avere lontanamente idea di quello che accadesse nella mia casa invece attraverso questa tecnologia ci stiamo avvicinando a quella democrazia digitale che è importante raggiungere cambiare le storie e portarne di nuovo e per portare di nuove cos'è nel mondo cos'è che ha sempre portato nuove storie libri no la cultura e anche da questo punto di vista il mondo degli afro italiani ha dato un grandissimo contributo a questo paese c'è oizza una ragazza di origini miseriane scrive c'è speranze la mia amica loretta grace tutte persone che si sono impegnate per raccontare un po la storia della propria gente e finalmente ci stanno essendo dei segnali positivi quest'anno è uscita la serie di netflix zero in questa serie qua io quando ho visto quando l'ho vista ho avuto dei momenti in cui ero commosso avevo avevo dei brividi incredibili questa serie è ispirata al libro di antonio di chiele di stefano e perché ero commosso a vederla raga era la prima volta in 32 anni di vita che vedevo dei personaggi in televisione dicevo wow ma lui potrebbe essere un mio amico questa storia sarebbe potuta accadere nel quartiere dove sono cresciuto ed ero un po amareggiato anche da un altro punto di vista dovete sapere che io oltre a fare musica faccio faccio l'attore sono iscritto in un'agenzia di un'agenzia per fare casting d'attore e ogni settimana devo fare dei casting per defini al 99 per cento tutte le parti che mi propongono sono sempre di una persona che uno spacciatore o di una persona che non parla l'italiano potete immaginare la frustrazione ho passato tutta la mia vita imparare a parlare bene l'italiano e poi mi ha richiesto di recitare solo ruoli in cui non lo devo parlare bene io come l'ho detto ci sono dei segnali positivi però credo che le cose cambieranno veramente quando anche noi afrodiscendenti anche afrodiscendenti saremo inclusi proprio nella realizzazione delle cose vi faccio un esempio l'anno scorso è uscito questo film nel quale recita sophia loren che apprezzo lo sforzo ed è una cosa carina però in questo film qua c'è lei e c'è il protagonista c'è l'altro protagonista del film un ragazzo di 12 anni e indovinate che cosa fa sto ragazzino non va a scuola e spaccia raga ho 32 anni e mai nella mia vita ho mai conosciuto un ragazzino di 12 anni che non va a scuola e spaccia e al di là di quello io penso al produttore e al regista di questo film magari è stato pigro a scegliere di raccontare solo questa storia qua perché se ci pensate sarebbe stato sufficiente approfondire no andare oltre a quel cliché perché ci sono altre storie positive io non mi dimenticherò un paio di anni fa sono andato al alla presentazione dell'album di gare sono rimasto commosso perché ho visto tutti i suoi fan che che cantavano le sue canzoni in arabo e alcuni ragazzi avevano i dread come lui per essere come lui non si facevano la blackface come fanno spesso in televisione dicevo wow questa è l'italia di cui faccio parte questo è il futuro questo il mio mondo e in quel momento ho realizzato che il mio compito la mia missione come artista è quella di utilizzare la mia piattaforma per raccontare delle storie far conoscere delle storie e sono certo che voi da casa vi domanderete ma se io non sono afrodiscendente cosa posso fare per aiutarmi cosa posso fare per migliorare le cose credo che compito di tutti noi non solo mio anche di voi da casa sia quello di approfondire che andare oltre alla superficie di cercare di andare nel profondo di queste storie qua da quello che io provo a fare con le mie canzoni però credo che anch'io abbia molto ancora da imparare sono moltissimo da imparare vi lascio con questa strofa della mia canzone io utilizzo la mia musica il mio medium per raccontare le storie e la musica principalmente ho sudato giuro lavoravo quando tu hai fumato il primo spino tu ti fingi malandrino da quella vita io fuggivo se arriva la tu non parlare una giungla qui c'è un'altra lì c'è bene c'è male ma bene o male ogni uomo fa quello che sape io corro ma nega fuggivo dalla prigione bro come mandela sono me di nigeria combatto fino alla fine john boyega hai meno chance se sei cresciuto da certe parti conta dove vai non da dove parte il brutto è un altro colore è una strada siamo un party tommy cutie bella lì